ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video con le città di starrail dopo qualche guida preliminare siamo arrivati finalmente al giorno delle pool ho tenuto tutto apposta per oggi sia banner standard che limited con sale e tutto il resto e sto anche per scoprire quale sarà il mio primo 5 stelle cosa che ancora non avevo fatto e niente prima di me hanno pollato un sacco di ragazzi ci saranno gli ispezioni del loro pool o in un unico video cioè questo o dividerò questo video e il prossimo in cui saranno le pool loro comunque io vi invito di godervi tutte queste pool che ci siamo fatti insieme passate anche voi in live sul sito viola se volete godervele in contemporanea me come stanno facendo tutti i ragazzi che spammano qui sotto vi auguro appunto una buona visione e ci vediamo in un prossimo video andiamo iniziamo prima molti su questo banner 4 stelle è tutto 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 prima moltina ticket liscio anche per me ormai lo chiamo ticket liscio vediamo allora 4 stelle anche light con va bene tuttissimo tuttissimo proprio non ho non ho preferenze anche perché vedrete banalmente che anche i light con altre stelle sono nuovi per me tipo questo non ce l'avevo perché non ho pullato niente ancora quindi insomma vediamo un po vediamo quale sarà il 4 stelle il light con di daneng allora io amo daneng da morire io amo daneng da morire quindi felicissima di questo light con ve lo giuro bene sono molto molto contenta perché glielo mollo subito a lui quindi bene l'avevo trovato anche nella beta il light con di daneng io continuo a confermare che daneng sicuramente esteticamente è uno dei miei preferiti lo amo da morire quindi di conseguenza sono molto 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 contenta del light con di daneng tantissimo proprio vi giuro quindi molto molto bene andiamo andiamo qua e prendiamo la seconda multi ok bene ticket liscio e si procede quattro stelle ok allora vediamo oh mediation mi mancava ad esempio mi piace tantissimo tra l'altro le stelle di mediation perfetto ok dovrebbe essere il prossimo il quattro stelle no dopo allora allora qui c'era tutto un discorso su trovo non trovo quel bono di sampo quindi molto bene molto bene molto bene io avevo delle aspettative nella vita tipo trovare i boni e quindi è andata bene è andata bene è andata molto bene devo dire è andata molto molto bene sampo il signor sampo il signor sampo si molto molto bene ok va bene procediamo terza multi in questo banner achievement ok grazie molto gentile ticket liscio e via vediamo un po vediamo un po cosa ci regala questo ticket liscio beh sono contenta perché non è in retap quindi era meno probabile che uscisse quindi bene così ok no ecco allora io spero che se non mi esce oggi nei prossimi giorni nelle prossime volte mi esca la tipa del pollo assolutamente quindi sono contenta di aver trovato il lightcon del pollo perché se oh doppio lightcon e anche però è ok per uc che tanto devo pullare nel banner di là quindi doppio lightcon molto bene sono contenta vediamo altro coso che c'è il 5 stelle ora no ok liscio semplicemente ha le cose rewards che non si capisce come sponino però va bene vediamo 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 allora è in fondo alla multi probabilmente perché li ho trovati come ultimi 4 stelle quindi penso siano in fondo in fondo vediamo top top e anche la volpina l'abbiamo presa e anche la volpina l'abbiamo presa bene molto contenta allora a livello di 4 stelle sono contenta perché questi due insieme al pollo poi vabbè se lo troverò sono contenta avrò bonus quello del banè sono a posto sono a posto sono a posto sono a posto anche perché io thing you ne l'ho trovata anche nella closed beta quando giocai quindi sono molto contenta di poterla rigiocare nuovamente quindi sono molto molto contenta molti del 5 stelle chiunque c'è va bene andiamo eccolo qua ticket con il simbolo dell'arcobaleno quindi 5 stelle vediamo chi c'è io più preoccupata dei 4 perché vorrei vedere cosa mi piace di 4 vediamo dai 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 vediamo allora beh light con light con questo uomo mi ama e io amo lui io felicissima io tutto ciò che è per daneng io felicissima vi giuro per me è troppo forte ok ci siamo quasi ci siamo quasi mammi a casa io felice io felice del rullo della pizza io molto felice del rullo della pizza molto felice di questo rullo della pizza veramente io molto 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 felice veramente molto molto felice la tiro 6 singole perché non mi piace fare prima le multi faccio prima le 6 singole quindi si fanno messe 6 singole guardiamo come frutto al ticket ticket liscio quindi faccio così li vado comunque così tranquillamente faccio le 6 ok secondo ticket liscio bene terzo ticket perfetto no vabbè no vabbè io sto per rendere il mio daneng il più sbroccato dell'universo letteralmente il mio daneng sta per diventare il daneng più sbroccato dell'universo vi giuro letteralmente poi ve lo metto in prestito poi ve lo metto in prestito ve lo metto in prestito con l'arma rifainata così tanto ve lo metto in prestito per forza ok abbiamo l'ultima poi facciamo le multi ultimissima facciamo le multi yes perfetto 17 brutto 17 vediamo 17 liscio ticket liscio ok molto bene molto bene questo per natasha molto molto bene visto che comunque natasha ce l'ho devo pullare da sili quindi mi uscirà qualche altra copia quindi il light con per natasha sicuramente mi faceva molto comodo quindi molto bene vediamo se c'è un altro 4 stelle nella multi visto che l'ho trovato proprio inizio o se inizieremo la prossima multi con il 4 stelle mi sa che inizieremo il 4 stelle no raga io non ci credo io non ci credo quest'uomo e io ci amiamo alla follia quest'uomo e io ci amiamo alla follia io non ci credo vabbè vabbè e niente c1 con l'arma rifain 2 e vabbè bene bene c1 bene è il mio main sì letteralmente io lo amo ragazzi questo lo amo vabbè niente eeeh fissi sono già confusa io confusa stundata ok liscio va bene va bene chiaramente ora non ci possiamo aspettare chissà cosa vediamo ok dovrebbe essere a fine multi il 4 stelle perché mi è uscito per ultimo da nenga nella scorsa quindi non mi aspetto grandi cose però never say never uh il let's come per marcio io marcio però la sto sempre usando ancora in team e tutto quindi in realtà bene 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 sono contenta perché anche lei comunque per ora non l'ho mai tolta quello shield è molto utile poi non ho trovato gepard quindi per ora io penso che shielder c'ho lei e basta quindi mi va benissimo l'ultima multi qua vado a 37 37 37 37 37 liscia va bene va bene ci spostiamo adesso nel banner di sili banner di sili che presenta una sorpresa perché se non mi esce con le pull che ho io vi ricordo che ha un banner da parte che avevamo fatto apposta per sili ok questo per Ertha molto bene quindi io vi ricordo che a un 5 stelle ci arriviamo per forza non so se ve lo ricordavate questo dettaglio importante noi abbiamo un banner dipende tempo dipende tempo quanto sei rimasto indietro ok prima multi pt0 andiamo a pt10 nel banner di sili multina liscia si va let's go 4 stelle allora vediamo cosa ci favoriscono tan 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 ok no io urlo io urlo ragazzi io vi giuro io urlo io urlo no vi giuro io io vi giuro c'è ho l'arma r4 vabbè 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 l'arma r4 va bene va bene pt20 liscia pt20 ma poi anche l'art della dell'itecone è meravigliosa è destino ti vuoi sposare anche su star rail evviva il poliamore ok vediamo e mi sa che anche qui ha fini multi perché è uscito per ultimo quindi vado veloce su queste schnell schnell natasha buono healer l'unica healer del gioco per il momento se uno non ha bailu quindi bene natasha c1 molto bene che l'healer fa sempre comodo ok ne ha pt30 30 liscia ora ho dei finire si tutte le costellazioni di daleng a me per favore un altro daleng grazie un altro daleng andiamo ok ok questo è harmony quindi per asta visto che quello di asta proprio specifico non ce l'ho potrebbe essere molto utile quindi light con per asta andiamo a pt40 tan 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 liscio no ragazzi se arriva un altro daleng probabilmente mi cappotto dalla sedia mi cappotto dalla sedia se vedo un altro un altro daleng si ok pelaci 1 bene e liscia penso poi dovrebbe essere finita con questo no ci darei un'altra proprio a metà multi a metà multi ok pt50 liscio che poi non ci avete fatto caso che non ci fa tutte le volte che è quando c'è il 4 stelle quando c'è il 5 invece non tipo si lamenta perché viene portato via dal vento però quando c'è il 4 stelle fa ok under the blue sky quindi destruction questo c'è da vedere un po' chi lo posso dare ok bene almeno che adesso 5 stelle no ok andiamo a pt60 vediamo e la c2 dall'alto abbiamo detto no era era pela con i meko no chi abbiamo detto che è buono con i meko perché se è pela comunque sono gg ma forse era erta uh ecco anche hook bene allora ci sono tutti quelli del banner adesso abbiamo anche hook quindi una copia per ognuno ce l'abbiamo erta ok erta perfetto comunque cuore per hook che così ce li ho tutti quelli del banner sono molto contenta uh 34 stelle subscribe for more io streamer letteralmente questo è il mio io streamer vedete sta facendo la live e questo è il pg streamer cioè me io streamer fanno cose comunque pd70 uh andiamo succederanno cose ok ok è abbastanza in fondo il light con vabbè io ormai main pela pela c3 tipo devo provarla devo provarla non so bene cosa faccia a me non esca dopo l'ottanta se no non ci siamo esce dopo l'ottanta ho calcolato male che potrebbe anche essere provivire probabile allora esce alla prossima che non so qual è perché io ho perso il conto perché non le avevo convertite tutte quindi esce in quella dopo vediamo se mi dà un'altra copia di daneng daneng no pela pela tutta la vita e uh che buono ok quindi abbiamo fatto c4 tipo c2 c1 una cosa del genere bene è questa la multi allora è questa è questa eccola qua ci siamo può essere qualsiasi della multi può essere anche il primo può essere anche il primo ok sì sì primo 50 e 50 di star rail vinto vinto ce l'abbiamo ce l'abbiamo e il resto lo segniamo tutto per jinguan e il resto lo segniamo tutto per jinguan che arriva il 18 quindi sono troppo contenta e l'ho vinto molto bene molto molto bene come di look ne vedo tante look c2 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 natasha c2 pt8 e via perfetto direi proprio una bella multi questa con due dei tre personaggi del banner facciamo così anche a questa e la copia di sili che volevo pt5 pt9 pt6 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 pt8 pt6 pt6 Grazie.